che si collocano a livelli diversi. Allora, in questo momento io mi rendo conto che le risposte che si stanno cercando di dare si collocano ad un livello molto tecnologico e si collocano ad un livello di tentativo di cambiare alcuni aspetti della macchina. Allora, in questo senso, tanto per dire, fondamentale, quando per le grandi e grandi le ultime considerazioni rossano è richiamarci alla necessità di riscoprire l'economia circolare, per cui facciamo in modo che ogni risorsa venga utilizzata fino a quando non c'è più modo di estrarne niente, facciamo in modo che il rifiuto diventi sempre ricchezza per qualche altro processo produttivo, che va benissimo, che è un'articlata fondamentale, però questo non può bastare, cioè io mi rendo conto che se vogliamo dare la risposta a verso dove andare, e credo che sia fondamentale non soltanto evitarsi a fare delle analisi, ma cominciare a chiedersi cosa costruiamo, questo credo che sia la grande sfida, è dalla risposta che non siamo capaci di dare, e siccome non siamo capaci di dare, svicoliamo, facciamo finta che non ci sia da dare, no, bisogna insistere con tutte le difficoltà, non siamo capaci di immaginare quale deve essere la risposta complessiva, allora quello è proprio il piano su cui dobbiamo insistere di più, d'accordo? Allora, l'economia circolare è fondamentale, ma non mi dà la risposta a come va veramente organizzata la società per permettere a tutti di vivere dignitosamente utilizzando meno risorse possibili e producendo meno rifiuti possibili e io aggiungerei lavorando anche il meno possibile, che è un altro elemento ancora. Questo per dire che va benissimo occuparsi degli assetti produttivi, va benissimo occuparsi degli stili di vita, di come consumiamo, di come trattiamo i risultati, ma dobbiamo contemporaneamente anche chiederci come organizziamo le relazioni economiche nel loro insieme, che è l'ambito di cui oggi nessuno si occupa. Che vuol dire che alla fine siamo tutti piccoli riformisti che io paragono a chi si trova su un barcone e come si viaggia nel barcone. Nel barcone, siccome siamo sull'acqua, si viaggia a Regno, ma se poi vi trovate nel barcone e l'acqua è finita e la figlia poggia sulla sabbia, voi avete voglia di arremare. La barca non avanza. Per fare avanzare la barca bisogna inventare la ruota. Non c'è niente da farlo. Che è un'altra logica. Che è un'altra logica. Noi siamo ancora qui. L'acqua sta finendo, ma siamo ancora nella logica dei marinai e continuiamo a chiederci quali iniziative possiamo mettere in atto per far viaggiare il barcone, senza renderci conto che non ci sono più le condizioni per navigare, ma dobbiamo cominciare a pensare come ci muoviamo sulla terra. Che è un'altra logica. Allora, questo tanto per dire che dobbiamo essere capaci di pensare quali assetti economici cominciamo ad organizzare. E qui la sfida è veramente grossa, perché la prima grande sfida che dobbiamo superare è il superamento delle ideologie. Noi siamo totalmente impregnati di ideologie. E due fondamentalmente sono le ideologie che ci danno prigionieri e che non ci permettono di trovare la soluzione. L'ideologia del mercato e l'ideologia della crescita che stanno profondamente a braccio e fra loro. E mi dispiace dirlo, ma l'università per prima è profondamente impregnata di queste due ideologie ed è per questo che non può venire dal mondo accademico la soluzione, ma può venire solo dal basso, da parte dei bimbi, da parte degli ingegni, da parte di comuni che non si sono mai occupati di economia, ma che si sanno fuori le domande semplici. Perché se vogliamo trovare la soluzione, dobbiamo smettere di partire così dagli assiomi precostituiti e dobbiamo cominciare a partire dall'altra parte. L'economia per chi? E per che cosa? Questa è la grande domanda. Quindi dobbiamo ripartire dalle visioni. Dobbiamo ripartire dalle visioni. Allora, la mia risposta è che noi dobbiamo organizzare l'economia per le persone, per permettere a tutti di poter vivere dignitosamente. Questo è il punto di partenza. Ed è attorno a questo fulcro che io poi organizzo tutta la tessitura, lontano dall'ideologia. E magari da organizzare queste tessiture posso rendermi conto che devo anche andare a pescare alcune strategie, alcuni strumenti che stavano là dentro ad un'altra cassetta. E magari le cassette che stavano sparpagliate in tante ideologie diverse. Allora, ecco, credo che questa sia l'operazione da fare. Allora, tanto per dire, noi oggi in quale sistema sanno? Permettimi due battute. Siamo nel sistema di mercato, d'accordo? Qual è il dramma del sistema di mercato? Il dramma del sistema di mercato è che ha trasformato in merce anche il lavoro. E io non sto facendo un'affermazione ideologica, sto facendo un'affermazione molto concreta. Se voi guardate, si parla di mercato del lavoro, si parla di costo del lavoro, del lavoratore, non parla nessuno. Parlano un pochino i sindacati e non trovano breccia. Del lavoratore come persona, nessuno si occupa. Ci si occupa del lavoro come costo. E siccome questo è un mondo, il mondo delle imprese, e permettimi di dire, io insisto su di dire che questo è il sistema dei mercanti. sapendo che il mercante ha avuto tante trasformazioni nel periodo. E la cosa curiosa è che poi si chiudono i cerchi. Questo sistema nasce finanziario. Nel 100% il capitalismo nasce sulle banche. Sulle banche che nascevano così sui marciapiedi per cercare di fornire ai mercanti che transitavano già a livello europeo gli strumenti per poter fare i pagamenti da una nazione all'altra. D'accordo? Poi il mercante non è unico, c'è il mercante di denaro, c'è anche il mercante di stotte, di beni, d'accordo? E i due vanno sempre molto a braccetto, l'uno ha bisogno dell'altro. Il mercante pure si è trasformato in mercante imprenditore, ha organizzato la produzione, da quale quindi abbiamo conosciuto un'altra fase ancora del capitalismo. E a seconda di chi prevale nelle varie figure, perché questo è un sistema complesso, dove combinano tanti animali, si ha la sensazione di essere ora in un sistema o in un altro. Ma se voi andate in una foresta, nella foresta c'è il leone, c'è la pantera, c'è il cintiale, poi c'è la gazelle, in certi momenti prevale l'aliena e ha la sensazione che sia il mondo dell'aliena. In certi momenti prevale il leone, la sensazione che... No! E prevale sempre il mondo, è sempre il solito che è quello del saccheggio. Poi a seconda di chi ha più forza per fare ora l'uno o per fare ora l'altro. E questo tanto per dire la conversazione che si faceva prima. Oggi superiore che il mondo dell'ordinanza ha un grande potere e abbiamo la sensazione di essere in un mondo diverso rispetto a prima. No, siamo nello stesso mondo che usa strategie diverse semplicemente per arricchirsi. Punto. Qualcuno scende, qualcuno sale. Questa è stata sempre la caratteristica di questo sistema. Ma per tornare a noi, d'accordo? Io continuo a dire che questo è il sistema dei mercanti, è organizzato per loro secondo le loro logiche, la logica dei costi, la logica dei ricavi, la logica della vendita. La logica della vendita. Questo è un sistema organizzato sulla vendita e l'abilità di questo sistema per renderci tutti i suoi succubi è quello che avrei trasformato il lavoratore stesso in un salariato che vende il proprio tempo per poter vivere in questo sistema. Noi non abbiamo nessun altro modo per provvedere ai nostri bisogni se non vendendo il nostro tempo ad imprese che sono organizzate per la vendita. E questa è la trappola della crescita per cui noi tutti, noi del lavoro, siamo sostenitori della crescita. Vogliamo lo straccio di lavoro? Dobbiamo pregare alla raggiunta che il mio vicino di casa compreciata e la mia azienda produce. Per cui noi siamo questi schizofrenici in nome dell'ambiente una parte diciamo che dobbiamo produrre di meno in nome del costo di lavoro diciamo che dobbiamo produrre e vendere di tutto. non ci vedete da fare. Questa è la nostra contraddizione. Allora se vogliamo risolvere dobbiamo andare lì a toccare e dobbiamo cominciare a chiederci è possibile organizzare un sistema dove si permette alle persone di poter provvedere ai nostri bisogni senza dipendere più dall'aumento dei consumi degli altri questa è la grande domanda e sì delle risposte ci possono essere ma bisogna un tanto liberarsi la mente da tutti i loghi e cominciare a dire ad esempio che oltre a vendere il nostro tempo e quindi guadagnare dei soldi e poi andare al supermercato a comprare ciò che ci serve forse possiamo fare un cortocircuito e produrre direttamente ciò che mi serve sbarazzarci del denaro produrre in presa diretta ho bisogno di lavare i piatti mi metto all'acqua e mi lavo i piatti ho bisogno di pulire la mia casa mi metto in presa diretta ho bisogno ho bisogno di rifare la ricicletta ho bisogno di mettere la casa cioè rivalutare questa possibilità di lavorare in maniera diretta che non è un'utopia già oggi esremamente presente d'accordo qualcuno qualche economista si è voluto di mettere a calcolare di quanto aumenterebbe il PIL se ci inserissimo dentro anche il valore del fai da te è semplicemente raddoppio ma oggi hai inserito dentro il PIL il fai da te assolutamente no e perché no? perché questo è un mondo monetario organizzato per i mercati se noi cominciassimo a dire no organizziamolo per le persone forse la prima ricchezza a cui dare il tuo valore sarà il proprio questo allora questa è una strada è sufficiente assolutamente no sono mica così stupido da pensare che io posso realizzare tutto ciò che mi serve da solo o da solo però non li valutiamo poi certo ci può essere l'economia di comunità per cui le persone che in qualche maniera scambiano anche le proprie competenze poi però anche questo non è sufficiente c'è bisogno di altre dimensioni ancora e allora ecco una dimensione che dobbiamo assolutamente ricordarci e che forse ci può far uscire dalla tratta della crescita è che oltre al mercato esiste anche un altro modo per provvedere ai nostri bisogni che è quello di metterci insieme ed organizzarci insieme per darci per garantirci ciò di cui noi abbiamo bisogno se noi siamo 30 40 e sappiamo che a mezzogiorno dobbiamo andare a mangiare questo è un bisogno molto concreto quindi ci vuole non soltanto che qualcuno cucini ma ci vuole anche che qualcuno abbia coltivato le patate ci vuole anche che qualcuno si sia organizzato per produrre il grano eccetera eccetera e beh noi possiamo organizzarci per cercare di garantirci tutto ciò che ci serve per arrivare a mezzogiorno e poter mangiare tutti e come possiamo organizzarci ci alleiamo facciamo la solidarietà vendiamo assolutamente no e perché va riscoperta questa dimensione che è la dimensione dell'economia di comunità che non è un qualche cosa in divenire perché l'economia comune esiste già oggi l'economia pubblica è una manifestazione dell'economia comune non dimentichiamolo ma far rinforzata perché qual è il vantaggio dell'economia comune che non ha bisogno di trovarsi clienti se noi decidiamo che siamo 20 abbiamo bisogno di un kilo di pane al giorno per le nostre famiglie quanto pane produrremo 20 kg finito ne produrremo 25 ma assolutamente no e perché dovremo produrre 5 di più per l'attacchipo e buttarlo via ma non siamo così stupidi ma non è la logica dell'impresa mercantile perché l'impresa è mercantile e cercare di produrre sempre di più e cercare di sempre più clienti e qui questa è allora ecco credo che queste siano le categorie di cui dobbiamo cominciare a parlare detto questo bisogna cominciare a ragionare di pensiero il pensiero l'ha attivato noi abbiamo messo a riposo e dobbiamo avere anche il coraggio di osare nell'immaginazione d'accordo per poi tornare tornare a bomba tornare al nostro tempo presente e cominciare ad interrogarci cosa faccio nel mio piccolo famose goccioline per cercare di andare in quella direzione e cosa faccio come comunità per cercare di fare cambiare le regole affinché si vada in quella direzione allora ecco l'importanza degli stili di vita personale ma anche l'importanza della politica perché la politica è quell'ambito Presidente di cambiare le regole non per una trasfermazione della benzina che non è possibile ma per cercare di mettere i mattoni che vanno in una strada diversa ma noi metteremo i mattoni che vanno in una strada diversa soltanto se sappiamo verso dove vogliamo andare non è che noi viaggiamo così a Vambera ma ho deciso che devo andare a Pisa e allora decido di andarci in bicicletta e mi organizzo in un certo modo se decido che voglio andare in America e so che potevo attraversare anche il mare per cui dopo aver preso nella bicicletta per andare a Pisa ho bisogno di un'imbarcazione per andare e quindi mi organizzo d'accordo ma mi organizzo solo se ho la chiarezza di verso dove voglio andare allora quindi ci vuole la visione è il capire quali sono le grandi direzioni di marcia per poi tornare a noi a chiederci cosa faccio singolarmente e quindi gli stili di vita sono fondamentali sapendo che però hanno un valore oltre che di equivalenza anche di testimonianza e quindi di insegnamento che sono importanti e che i cambiamenti avvengono soltanto se la gente si convince che dobbiamo cambiare e si convince che dobbiamo cambiare anche guardando qualcuno che si comporta bene e poi cominciando a chiederci quali regole cominciamo a cambiare per andare a una certa direzione allora qui diventa fondamentale la politica fiscale l'ecotasse tanto per dirne una come faccio a fare in modo che le persone consumino in una certa maniera invece che un'altra come faccio a spingere le imprese ad organizzarsi per produrre in un certo modo invece che in un altro no e non soltanto quelle convinte ma anche quelle che convinte non sono ma si vogliono sapere il periodo e da contenere un comportamento buono anche da parte loro quindi ecco l'importanza dell'edito della legge l'importanza delle tasse l'importanza della spesa pubblica che si è organizzata in un certo modo invece che in un altro ecco questo per dire la mia risposta questi sono i tre livelli su cui dobbiamo lavorare partiamo dal piccolo alla nostra dimensione personale viviamo in prima persona ciò che riteniamo corretto la coerenza ma nel contempo la visione per cercare di capire quali sono le grandi trasformazioni che dobbiamo operare e poi ritornare al punto centrale quali politiche cerchiamo di mettere in atto per avviare la transizione la trasformazione e questo credo che sia i tre livelli che dobbiamo occupare su cui dobbiamo impeccarci assolutamente tutti qua bene applausi io prendo l'ultima parte della propria perché ho l'impressione ho messo e lo dico sperando di non attendere però ho avvertito diversi elementi ideologici nel discorso ci sono anche in altre esposizioni però certamente non vero come sia possibile francamente ritornare ad un mondo così dove l'autoproduzione abbia un carattere prevalente diciamo al di là di dieci non si percebe naturalmente non posso trovare queste cose però c'è un elemento è vero che è vero che il quidro addobbe siamo a 50% beh il quidro addobbe il quidro addobbe ho letto alcuni stili fatti da Andrei Chino per esempio che dice esattamente questo se valutassimo tutto ciò che in tutti i bisogni noi soddisfaggiamo direttamente è un argomento estremamente pericoloso è un argomento estremamente pericoloso che viene adoperato da Polo che dicono se riusciamo a sopravvalutare il PIL diminuiamo i parametri primari cioè non dobbiamo essere coscienti di questo fatto no no è così che viene fatto è così che attualmente l'istituto centrale di statistica procede però sta cercando di trovare dei criteri puramente formali per aumentare la valutazione puramente del PIL al fine di diminuire di parametri primari questo è un dato che si legge sui giornali quindi bisogna stare attenti certe volte bisogna capire in profondità il senso di capo di certe posizioni di certe valutazioni a me però interessa una cosa che ha detto Gesù è quello dell'importanza della spesa pubblica e dunque la spesa pubblica è qualche cosa che è gestibile soltanto attraverso la politica ultime parole proprio di Gesù per chi non ha dimestichezza con i cib in Italia attualmente il PIL che per me è un primo numero è basta non mi dice assolutamente niente per quanto riguarda il benessere delle persone è un numero e basta è circa 1860 miliardi di questi 1860 miliardi la metà va in spesa pubblica sono circa 900 miliardi 900 miliardi e non ho conto che attualmente la manovra per contrastare l'IVA sarebbe di 23 miliardi per avere degli orizzonti di riferimento in Italia ogni anno 900 miliardi vengono spesi io ritengo francamente che bisogna stare attenti a come per l'ospesa di 900 miliardi è una questione di riorientare la spesa pubblica per riorientare il sistema economico è una questione di qualità della spesa e dunque di qualità della crescita non di quantità di crescita non di quantità di crescita non ne lavoro ulteriormente vorrei chiedere a Ercolini ecco se che opera concretamente in una materia così complessa come quella dei rifiuti delle produzioni attualmente in atto credo che sono qui concrete di tutti i giorni ecco che addirittura ha sviluppato un decadono che si ritrova nel suo libro e non solo ma quel decadono l'ha tradotto anche in punti minori in alcuni punti minori rivolti a un mondo anche di bambini ecco io personalmente considero una sorta di Bibbia una sorta di Bibbia il volumetto del comune insieme all'altro è sviluppato su come bisogna procedere alla raccolta dei rifiuti domestici all'interno della famiglia ogni volta che mi viene un dubbio per esempio se devo smantire questo telefono qui come faccio vado a consultare questa piccola Bibbia che è un documento che viene distribuito dal comune e dal mi sembra dalla roba anche non so da chi no dal sistema non ecco la sua azione che ha avuto una scelta efficacia no? ha avuto una scelta efficacia e va in direzione non di una visione alternativa dello sviluppo economico nemmeno di un'azione che midi a come dire a animare ma addirittura a animare certe tendenze intensiche dei sistemi di mercato ma che va invece in direzione di costruire dei modi di risolvere problemi concreti problemi che stanno dalleggiando seriamente non soltanto il nostro paese ma l'universo mondo eccetera ci può raccontare un po' questa sua esperienza e dirci concreto ecco come un sentiero uno dei sentieri possibili sono perfettamente d'accordo con Gesù anche siamo di fronte a problemi complessi c'è bisogno di molti canali di molte politiche di molti sentieri e così via vediamone uno ecco vediamone uno concreto no? quello è quello che rientra totalmente nell'esperienza di ecco la testa si vede un po' poco ora si preferisco eventualmente vuoi sederti qui? no 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 ho bisogno di voi è chiaro che nell'ottica che cercavo di condividere con voi che la gocciolita tra il cuccio forse in altri tempi mi sembra usava l'espressione della formichina no? o comunque il percorso non violento la storia della storia dei movimenti di candismo insomma no? no? io così molto immodestamente o umilmente dovendo trovare le giuste parole per i bambini perché una cosa io di fronte a voi con le parole tendo a violentarmi perché dopo è scontato e sono un po' anche opportunista ma davanti a bambini te non puoi essere opportunista perché quelli non ti seguono e anche egoisticamente parlando per l'insegnante se non seguono non imparano e quindi non solo non fa il tuo lavoro ma loro non hanno gli strumenti che poi il genitore viene a dire ma il bambino ha le tabelline ecco quindi allora devi trovare le parole quella della goccia d'acqua perché la goccia d'acqua funziona nel momento in cui sa capire che una goccia contiene il mare ecco dov'è la genialità tra virgolette di chi arriva a percorrere questo questo fresh che è fondamentale per la conoscenza per la parte diciamo più tecnica cognitiva ma anche la conoscenza dei processi emotivi noi siamo un po' una unità fatta di elementi però che si combinano di loro quindi mi piace questa idea ogni goccia sta da sola a muore la formidina magari fa la sua vita ma le gocce riescono se hanno capito che sono il mare come il fiume il fiume ce l'ha scritto che deve andare al mare lo cerca lo trova ci mette anche tanto in pianura ma poi sa che il suo destino è andare al mare quindi è fondamentale rivedere anche le nostre tra virgolette epistemologie secondo altra questione di contesto diciamo proprio pedeutiche per poi parlare di dove metto la cozza quale vino in cino dove metto la carta onda della pizza connette le conoscenze micro e macro noi purtroppo siamo schiacciati dalle complessità il mondo cosiddetto civilizzato Max Weber ti schiaccia la complessità è la laicizzazione all'estrema potenza quindi devi sezionare i poteri le conoscenze le devi sezionare la mano destra difficilmente preda degli specialismi sa che cosa fa la mano sinistra e quindi noi dobbiamo rivedere anche queste categorie di pensiero che poi ci portano a un modo di pensare e quindi di agire allora io quello che capisco in questo momento prendete il plastic free giovanotti il concerto io sono contento ma non sono sciocco un po' come l'affermazione di Boston di cui siamo partiti prima io sono comunque la giudico positivamente io non ho la puzza al naso perché è meglio che abbiano detto così perché c'è un germe di autocritica che chiaramente non posso lasciare nelle loro mani e se lo lascio interamente nelle loro mani è inevitabile che il loro linguaggio l'unico linguaggio che conosco è quello delle public relations Umberto Eco diceva le public relations si modellano sulla pubblicità sul linguaggio pubblicitario la pubblicità si modella sul linguaggio sulla retorica medievale forse addirittura dell'antica Grecia quindi noi dobbiamo recuperare anche la comunicazione il senso delle parole ogni parola sono pietre e capire che forse più delle parole contano gli esempi perché se io ai bambini dico il tetrapak metterlo nel multimateriale forse il bambino mi vede che lo metto nel bidoncino grigio non mi dice neanche niente è uno dei tanti che parla bene e fa male abbiamo il peccato originale siamo tutti peccati